Il creatore di questa piattaforma ci può spiegare in cosa consiste? uscari.com ripartiamo da ciò che sappiamo fare e da ciò che siamo è la prima piattaforma di arti, mestieri e tradizioni proprio perché ciascuno di noi sa fare tanto e sa fare anche molto quindi ripartiamo da noi iscrivendoci in questa piattaforma pagando una quota di ventiere annuale e creiamo il nostro profilo per essere cercato in quella specifica attività lavorativa da chi ha bisogno proprio di me un modo per incentivare, per valorizzare quei mestieri un po' dimenticati direi proprio di sì ma aggiungo anche che è aperto anche alle aziende cioè uno si può iscrivere come privato o come azienda compartitiva perché sono tante le piccole e medie aziende che sono in sofferenza e in questo modo con 20 euro andranno alla ribalta in vetrina su buscari.com una piattaforma che in un certo senso è già partita ci vuol dire un po' chi si è iscritto già? Noi abbiamo aperto 5 giorni fa una sorta di iscrizione gratuita per dare una mano all'avvio di questa piattaforma sono arrivati mestieri stranissimi dal giovane che si occupa di lombricoltura con la coltivazione di lombricchi alla signora che è badante per cani disabili abbiamo l'incisore anche qui alle mie spalle vedete questo top dove la foto della persona è realmente uno iscritto su buscari.com e che non conosco da oggi